Al nome del Santo Padre voglio ringraziare tutti i benefattori, tutta la gente di cuore eccezionale di questo assegno e di tutti i doni per i poveri, non solo di Ucraina, per i poveri di Santo Padre e quelli dell'Evangelo. Quindi alla vostra organizzazione Cross Catholic ringrazio totalmente e al nome del Santo Padre vi do una benedizione a voi, alle vostre famiglie, a tutti che vogliono usare questa logica dell'Evangelo di condividere con i bisognosi i propri doni. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Tante belle cose.